Questo report fotografa la situazione scolastica della Regione Emilia Romagna, qual è il suo utilizzo? Beh, innanzitutto abbiamo un bellissimo quaderno che ci permette di far vedere a tutti i numeri della scuola. Questa è una scuola da 550 mila, mezzo milione di persone che sono nelle nostre scuole. Ci sono 50 mila fra docenti e personale, quindi è realtà profonda in una Regione di 4 milioni di abitanti. Fa vedere una Regione che ha voluto accogliere veramente tutti. Siamo la Regione in Italia che ha il maggior numero di nuovi iscritti ed è una Regione che ha un suo stile. Dicevamo, non un tempo prolungato, ma un tempo pieno. I numeri servono a tutti, servono a tutti coloro che vogliono discutere di scuola, a tutti coloro che sono dentro al mondo della scuola, ma anche a tutti coloro che domandano di più alla nostra scuola. C'è un problema di risorse. Quante ne mancano e quante ne servirebbero? La Regione cosa chiede? La Regione domanda quel 4% in più, 4-4,5% in più di organico, che è quello che in un qualche modo non soltanto ci è stato tolto, ma è quello che è la differenza fra quanto pesiamo noi sul totale nazionale, il 6,5% e quello che ci viene dato in termini di risorse, il 6,3%, che vuol dire comunque 2.000-2.500 persone, 3.000, se consideriamo anche il personale, ma che è comunque un dato importante. Il Paese è cambiato in questi anni e questo vuol dire che a parità di risorse c'è anche una ricollocazione fra le regioni che sono cresciute e hanno colto di più, che sono essenzialmente quella del nord, Emilia Romagna e Lombardia, e molte regioni del sud, dove oggi c'è, non voglio dire, un eccesso di insegnanti, ma dove diversa è la situazione. È un cambiamento che va fatto in questo spirito del titolo quinto, e quindi un federalismo solidale e quindi a livello nazionale stiamo ragionando anche in profondità di come fare questo cambiamento, perché non ci sia una guerra fra le regioni, ma ci sia una capacità di essere solidali nel cambiamento. Cioè bisogna dare alle regioni la capacità di gestire gli organici. Noi abbiamo bisogno di più persone, siamo la regione in Italia che ha avuto il taglio più consistente, ma ha avuto anche il maggior numero di nuovi iscritti, che ha difeso ad oltranze il tempo pieno e che ha il maggior numero di bambini iscritti alla scuola professionale. Quindi nel confronto con lo governo abbiamo fatto valere tutto questo. grazie a tutti.